La collaborazione tra ITA e SMAU si rinnova per la terza volta. Quali sono le opportunità che l'ecosistema francese delle startup offre oggi? Allora sì, è vero, siamo alla terza edizione della tappa parigina di SMAU che sta dando risultati crescenti e incoraggianti. Abbiamo più startup interessate a venire, più regioni coinvolte, più corporate italiane e francesi che si incontrano in questa tre giorni parigina. L'ecosistema francese rappresenta in qualche modo un modello anche per l'Italia. I francesi probabilmente sono partiti prima di noi nel creare un sistema che mette insieme acceleratori, investitori, grandi eventi come VivaTech. Quindi venire a Parigi significa probabilmente imparare e soprattutto incontrare a livello europeo il meglio che si può incontrare sotto vari punti di vista.